zona rossa e zona arancione un paese diviso a metà in tempi di pandemia la strada che lo attraversa segna il confine tra i comuni di prato la peligna zona rossa e sul mona zona arancione gli abitanti di bagnaturo che vivono a pochi metri tra di loro e costretti a rispettare da ieri delle restrizioni diverse vivono attualmente in una situazione di confusione smarrimento abbiamo diciamo pagato un prezzo molto alto come tutte le altre comunità al covid anche noi qui a bagnaturo dove queste cose comunque hanno una cassa di risonanza maggiore quindi nonostante diciamo la strada paradossalmente ci divide come fisicamente come comunità ma quegli episodi hanno comunque stretto una comunanza tra il territorio di sul mona e il territorio di prato anche se diciamo normalmente siamo divisi ma come viene presa dagli abitanti di bagnaturo questa situazione gli abitanti la vivono in maniera a volte disorientata e quindi tendono in qualche modo a una maggiore restrizione generalmente quindi a rimanere comunque confinati nelle proprie abitazioni quindi è una situazione un po' paradossale come tutte tutte le altre vicende che abbiamo vissuto questa strada purtroppo ci ci mette sempre in queste condizioni ecco come ha detto giustamente lei paradossali non abbiamo questo senso di divisione che in qualche modo la strada ci fisicamente ci impone quindi anche con delle norme diversificate perché appunto è un'unica comunità e la viviamo in maniera con un grande senso civico ma io chiaramente abito al quartiere diciamo quartiere di sul mona facendo la frazione di sul mona e ho mio figlio che abita al quartiere di pratola la strada noi non ci divide però secondo questa legge io per andare a prendere mio nipote portare alla sera c'ho la difficoltà che se mi becca un un poliziotto che vado al lato di prato e mi chiede documenti potrei essere uno di quelli soggetto a multa però viviamo in questa situazione un po' paradossale però purtroppo noi io ho 67 anni quindi ho fatto una vita qua non ci ha creato mai problema che non c'è mai non c'è mai esorto e spero che capiscano le problematiche che abbiamo e qualcuno un giorno prenderà atto di questa situazione che è un po' paradossale da oggi è partito lo screening di massa predisposto dal comune di prato la perigna nell'ambito delle iniziative di contrasto la diffusione del virus proseguirà anche domani e domenica i cittadini suddivisi per cognome al fine di evitare assembramenti potranno recarsi allo stadio Ezio Ricci e presso la sede parrocchiale di Bagnaturo per effettuare il test antigenico rapido